L'importanza di tutelare l'ambiente e anche di risparmiare. In questa ottica l'inaugurazione, il successivo funzionamento dell'impianto fotovoltaico a 20 kilowatt per l'approvvigionamento energetico dell'impianto di selezione Pasquinelli. Presidente Mancarelli, coniugare economia e ambiente attraverso questo strumento tecnologico? Assolutamente sì, come bene sottolineava, l'ambizione di Chimambiente è quella di completare la transizione ecologica che non diventi solo uno slogan ma con i fatti concreti. Questo è uno di questi. Noi come azienda siamo i primi che effettuiamo sui nostri tetti la trasformazione con impianti fotovoltaici. Questo, come si diceva, 20 kilowatt che sprigionerà 25 mila kilowatt ora, quindi con un guadagno e una riduzione del 30% della bolletta energetica. Ad agosto entrerà in funzione un altro impianto sempre sul tetto di questo Pasquinelli di 15 kilowatt e questo comporterà il dimezzamento completo della bolletta energetica. Quindi Chimambiente, sempre più green. Questa è la grande sfida voluta dal sindaco Rinaldo Melucci e così ci stiamo muovendo.